La Giunta regionale abruzzese ha stanziato con apposita delibera la somma di 500.000 euro per il porto di Giulianova. Questo servirà a svolgere i lavori di manutenzione straordinaria per mettere in sicurezza la struttura del porto, gravemente danneggiata dalla mareggiata degli ultimi giorni e per il completamento della struttura, già realizzata con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione. Questi 500.000 euro, per cui ringrazio la Giunta regionale, sono per la verità quota parte di un finanziamento ulteriore che oggi viene attivato dal direttore generale della Regione, il dottor Rivera, e che consentirà di utilizzare altre 400.000 euro di economie della Regione. Per cui noi avremo uno stanziamento complessivo di 900.000 euro, che ovviamente sono sufficienti e indispensabili per mettere in sicurezza la porzione di braccio già realizzata. Questo ovviamente significa che poniamo un tassello reale per poterlo completare, perché senza la messa in sicurezza della prima parte non era assolutamente possibile pensare di proseguire. Noi ci impegneremo a fondo perché un'altra novità per l'ente porto, che è sempre stata estranea a questa procedura, a questa realizzazione, è che la Regione li ha destinati a noi e quindi sarà il nostro impegno muoverci più velocemente possibile. Non appena avremo la disponibilità di questo risorso, ovviamente preparandoci già per tempo, noi andremo velocissimi, anche se bisognerà fare alcune verifiche, e soprattutto di tipo ambientale, per poter spostare ad esempio banchi di sabbia che sono necessari. Sottolineo con piacere il grande gioco di squadra che c'è stato. Tra noi la Capitanina di Porto, che ha svolto un ruolo essenziale ed importante, il Comune di Giulianova, per il raggiungimento di questa intesa con la Regione Abruzzo.